Luna bellissima invece è una luna straordinaria nel punto più bello del vostro cielo e alimenta un sogno d'amore chiaramente perché questi pianeti che ci sono nel segno dell'acquario, Venere e Marte in particolare tendono ad alimentare proprio questo vostro bisogno di affetto, questo vostro bisogno di amore però tante volte voi vivete questi rapporti più nella vostra testa, nella vostra mente che non a livello pratico diciamo così questa luna però vi vuole dare la possibilità anche di conquistare materialmente una persona e allora fatelo